Vi siete mai chiesti cosa c'è al di sotto della botola? La botola è quella che si vede sempre dal programma Caduta Libera, quello show condotto da Gerry Scotti da ben dieci anni, perché ricordo che va in onda circa dal 2015 sulla rete Ammiraglia Mediaset, il programma che fa praticamente compagnia al pubblico televisivo italiano nella fascia preserale. Il programma, tratto dal formato israeliano L'Aufa La Million, Still Standing, creato dall'Armoza Formats, è iniziato ad andare in onda nella fascia preserale di Canale 5 dal 4 maggio 2015 con la conduzione di Gerry Scotti. La sua particolarità consiste appunto nella caduta nella botola una volta persa una manci con il campione e dello stesso campione se non riesce a rispondere alle dieci domande finali. In gioco undici concorrenti, il campione e dieci sfidanti, i quali danno il via a una sfida che si volge tra il campione e gli sfidanti a suon di domande di cultura generale. Entrambi hanno a disposizione tre vite e solo il campione può passare la palla allo sfidante, che deve necessariamente rispondere correttamente e non può ridargli in mano la stessa domanda. Finite le vite lo sfidante cade nella famosa botola. La stessa sorte tocca al campione se non riesce a rispondere alle dieci domande finali. Ma cosa c'è sotto la botola di caduta libera? A svelare il mistero ci aveva pensato Cecilia Rodriguez che durante la sua partecipazione al GF VIP aveva detto cosa aveva trovato una volta caduta nella botola. Una volta precipitati nella botola, i concorrenti di caduta libera si ritrovano dentro una sorta di piscina alta più di un metro piena di gomma piuma. Lo strato morbido serve ovviamente ad attutire la caduta dei concorrenti ed evitare eventuali rischi. Per una questione di prevenzione, per poter partecipare al game show di Canale 5 servono alcuni requisiti fisici. La prima è l'età, compresa tra i 18 e i 55 anni. Poi il peso, non pesare più di 100 kg, non soffrire o averlo fatto in passato di problemi cardiaci o alla schiena. Non bisogna essere alti più di 2 metri. Prima di cadere all'interno della botola di caduta libera è necessario togliere le scarpe con il tacco o gli occhiali. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.